allora salvo a tutti cari amici sono sempre io Emiliano Babilonia ricercatore esperto di alte tecnologie i servizi segreti militari di mafia militare e terrorismo terroristi militari mi hanno bloccato per quattro volte la diretta web non mi hanno fatto finire quello che stavo dicendo e addirittura in continuazione hanno bloccato le mie parole distorcendo quello che stavo pensando e quello che stavo dicendo adesso ho fatto direttamente una registrazione in modo che i servizi segreti non possono bloccare questa registrazione domani mattina la salvo e la posto in qualunque posto possibile e immaginabile in modo che tutti possano arrivare a questa registrazione mentre sto parlando i servizi segreti mi vedono dentro casa con le telecamere a scansione sintetica a raggi X mi vedono con le telecamere scalari millimetriche ed elettromagnetiche come i check-in degli aeroporti con le frequenze organiche e inorganiche infatti saluto i servizi segreti che mi stanno guardando attraverso i muri col satellite respira allora oggi una persona mi ha mandato una comunicazione stampa della corte europea di Strasburgo allora leggo la comunicazione stampa il Consiglio europeo riconosce l'ommissione dello Stato italiano per i diritti ovviamente che ci hanno violato l'ufficio del segretario generale del Consiglio europeo ha riscontrato in tempi rapidissimi l'esposto dell'osservatorio permanente sulla legalità costituzionale riconoscendo che lo Stato italiano ha omesso di segnalare al segretario generale del Consiglio d'Europa la sospensione di diritti fondamentali come richiesto dall'articolo 15 del CEDU l'ufficio del segretario generale ha altresì indicato che la conseguenza di tale violazione sono la piena vigenza della CEPU in territorio italiano che non è quindi in alcun modo sospesa cioè praticamente che i diritti della CEDU della corte istituzionale europea sono ancora in vicore in Europa e queste persone invece ci hanno creato dei danni perché le vittime del controllo mentale i target individual vengono attaccati con le armi alle energie dirette come cavi umane come schiavi sottoposti a lavaggi del cervello e torture e non possono più vivere la loro vita e se noi andiamo a denunciare in procura quello che noi stiamo subendo ci prendono per pazzi e per malattie di mente allora se siamo pazzi e malattie di mente ci devono dare la pensione di invalidità tutti i cittadini italiani possono dunque rivolgersi alla corte europea di Strasburgo per tutelare i propri diritti violati quindi anche in caso di pandemia la corte dei diritti di Strasburgo è attiva quindi noi possiamo mandare le denunce e possiamo denunciare che veniamo attaccati con le armi satellitari da servizi segreti militari di mafia militare deviati e terroristi militari deviati che ci attaccano con le armi ad energie dirette ad onde convogliate ci sparano le frequenze nel cervello e sul corpo e ci amplificano torture fisiche e psicologiche adesso stanno amplificando le frequenze delle particelle di luce sparate dentro i miei occhi per crearmi dei danni mentre sto facendo la diretta ma questo lo sappiamo perfettamente bene usano armi neuroniche che interagiscono con i centri nervosi centrali armi biofotoniche che interagiscono con gli occhi trasformano le frequenze di luce in impulsi elettrici e gli impulsi elettrici vengono mandati all'interno del cervello con frequenze e patologie indotte e simulate attraverso l'arma psicotronica o arma neuronica in più ci attaccano con le frequenze infrasoniche ci mettono delle voci lavaggi del cervello torture interrogatori continui durante la notte in modo che noi non possiamo dormire e il giorno siamo dei zombie degli automi radio pilotati attraverso un stato di sonnambulismo stato di ipnosi e stato di manipolazione della realtà cosciente attraverso un sistema di simulazione che opera con le patologie della narcolessia indotta ed è più facile far chiedere noi siamo pazzi malatidimente visionari noi siamo solamente persone extrasensoriali che rileviamo i satelliti sperimentali che stanno attestando sulle cavie umane io non ho autorizzato di essere sottoposta ad esperimenti militari da parte dei servizi segreti deviati e centinaia di altre vittime in Italia non hanno dato parere favorevole per essere sottoposta ad esperimenti militari allora fra questi leggo la comunicazione stampa il diritto alla libertà personale il diritto di recarsi sul posto di lavoro hanno violato di frequentare le scuole e di ogni ordine e grado scolastico di aver utilizzato procedure come i di PCM con gravi violazioni della Costituzione di avere alimentato e tollerato un clima di tensione psicologica del terrore sia sulle cavie umane che sui individui e che hanno poi influenzato profondamente sulle possibilità economiche perché noi veniamo attaccati non possiamo andare a lavorare ci creano dei danni quindi non possiamo guadagnare e sull'equilibrio psicologico di ogni persona sottoposta a questi esperimenti militari attraverso i satelliti e le altre tecnologie con grave danno esistenziale che perdura a tutt'oggi perché noi veniamo attaccati noi ci devono dare risarcimenti danni noi siamo dei testimoni essendo dei testimoni di questi attacchi di queste manipolazioni noi dobbiamo prendere un risarcimento danni un risarcimento danni molto oneroso invece i soldi li prendono i servizi segreteviati mazzette in nero per fare gli esperimenti per collaudare i satelliti di spia addosso alle cave umane alle vittime del controllo mentale da venerdì sera che mi stanno attaccando con queste armi venerdì sera sabato sera tutta sabato sera tutta domenica e oggi questa mattina i servizi segreti mi facendo ancora lavaggi nel cervello tortura interrogatori io ho messo un'email a disposizione vittime del controllo neurale chiocciolagmail.com sicuramente i servizi segreti la stanno bloccando perché cercano di mandarmi le email delle vittime nel cestino dei spam addirittura le bloccano ho anche un canale un blog dove potete praticamente seguire quello che io pubblico vittime del controllo neurale satellitare punto blogspot punto com ho anche un canale di youtube angeli custodi e backup a ultra italia iscrivetevi ho anche un account pubblico di facebook emiliano bambino in italia che vi potete iscrivere poi mi iscrivete o mi mandate le link importanti tramite messenger che possono essere questi link utilizzati come un punto di come si chiama di studio di ricerca di informazione sulle varie notizie che voi potete acquisire attraverso il web e le nostre notizie che poi acquisiamo noi e poi le ritrasformiamo in notizie in comunicazione stampo in comunicazione di divulgazione nazionale per aiutare le vittime del controllo mentale i target individuals per fare delle denunce bisogna fare una strategia io ho detto facciamo la prima strategia ogni target individuals deve portare la denuncia ufficio primi atti del tribunale d'appartenenza e denunciare le tecnologie di controllo e di spionaggio che servono per attaccare le vittime del controllo mentale dopo fatto questo aspettiamo la risposta una volta data la risposta noi che cosa facciamo incominciamo a preparare la denuncia collettiva tutti quanti insieme denunciamo la stessa identica cosa che veniamo sottoposti a spionaggio con armi satellitari eccetera 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 non siamo i testimoni di quello che ci accade i numeri operativi devono portare trovare le prove e trovare i colpevoli di chi ci attacca con queste armi noi gli diciamo dove stanno i satelliti gli diciamo come veniamo attaccati quale tipo di tecnologia utilizzano e loro devono prendere il radar telescopio il radio telescopio puntare in quella direzione dove c'è il satellite individuare i satelliti attraversi i scanner radar satellitari una volta individuato il satellite lo devono bloccare o analizzare o buttare giù quel satellite inutile che ci vengono a dire che loro non sanno come funziona non sanno la sicurezza la sicurezza nazionale non ha queste tecnologie non viviamo più nel medioevo lo sappiamo perfettamente che spiano le persone con i satelliti spia se no i satelliti spia non servirebbero a niente non servirebbero i satelliti cosmo non servirebbero i satelliti del sistema mouse non servirebbero i satelliti e non servirebbero anche l'interforza spaziale che serve per proteggere le nazioni da attacchi terroristici con armi militari satellitari se noi Stati Uniti d'America mica spenderebbero 2000 miliardi di dollari per creare l'interforza spaziale che serve proprio per proteggere i Stati Uniti d'America da eventuali attacchi terroristici militari con armi satellitari e non spenderebbero questi miliardi neanche i russi neanche come si chiamano i giapponesi i cinesi e tantissime altre nazioni che hanno preoccupazione di queste armi satellitari armi ad energia diretta che prima le hanno messe sulle navi poi le hanno messe sugli aerei poi le hanno messe sui droni poi le hanno messe su delle dei carri armati adesso queste tecnologie le hanno amplificate potenziate sofisticate le hanno messe sui satelliti perché ci sparano con queste armi ad energia diretta ad onde convogliate a frequenze microonde scalari elettromagnetiche e frequenze che operano in varie gamme di frequenza delle onde health onde celebrali perché in realtà sono tecnologie ad elettroencefalografo trasclanico che vengono sparate nei nostri centri nervosi nelle nostre abitazioni è utile che loro attaccano ci attaccano a queste armi ci attaccano a queste tecnologie a me finché non levano queste frequenze radossi io vado avanti a fare i video ad oltranza telefonata ad oltranza denuncia ad oltranza da tutte le parti possibile che non c'è nessuno magistrato che vede possibile che non c'è un militare onesto che risponde a queste denunce che io sto portando in continuazione e che tutte le vittime stanno portando in continuazione in procura non è possibile e che dobbiamo essere i burattini dei servizi segreti deviati e fare quello che dicono i servizi segreti deviati ma a loro ma chi chiede l'ordine chi chiede il permesso di fare questo non esiste in Italia che un militare deve venire da noi e ci deve impartire ordini ordini di schiavitù l'Italia non è un campo l'Italia che è diventata Auschwitz che è diventata un campo di concentramento dove noi dobbiamo essere sottoposti a testa china a militari satanisti nazisti che operano con la divisa nel territorio nazionale per ammazzare per rendere in schiavitù lo stato italiano non esiste questa cosa il tutore della legge deve eseguire il codice penale il codice penale non dice che devi metterti a torturare con i satelli di spia le vittime del controllo mentale e poi prendere mazzette in nero per sperimentare le nuove frequenze con le nuove armi satellitari in testa addosso ai cavi umani non lo dice questo non lo dice questo non lo dice questo adesso mi stanno surriscaldando tutta la parte del cervello questi teste teste a pera che stanno dentro questi posti a questo come sono bravi eh bello eh si incappucciano per non farsi vedere il viso quando entrano dentro queste postazioni poi quando escono si incappucciano perché sennò gli guardano gli guardano la faccia perché hanno paura delle scansioni biometriche facciali delle scansioni biometriche corneali hanno paura di uscire allo scoperto perché questi sottopite fogna che si vanno a nascondere dentro le fogne perché hanno paura ad essere visti perché se questi riprendono che fanno questi esperimenti su cavi umani fanno questi esperimenti su persone anche militari io ci ho che Riccardo ex poliziotto dei numeri operativi della scientifica sottoposta a torture lavaggi del cervello con attacchi a frequenze ad onde convogliate lo attaccavano davanti a noi gli sparavano le frequenze ad onde convogliate davanti a noi mentre stavamo parlando con lui hanno attaccato addirittura un militare che ha fatto delle missioni all'estero di pace è stato attaccato quando è ritornato dalle missioni di pace abbiamo addirittura delle testimonianze di un ispettore di polizia che ci ha contattato e che veniva attaccato con queste armi addirittura c'ho ufficiali in pensione dell'arma di carabinieri attaccati con queste armi e con queste tecnologie e tantissime altre persone che sono state attaccate con queste armi e con queste tecnologie ma chi tutela i carabinieri chi tutela i poliziotti chi tutela i finanzieri dai servizi segreti deviati di mafia militare e di terroristi militari che operano con le armi satellitari chi li tutela? l'Italia bisogna creare qualcosa un'Europa bisogna creare un'Interforce che sta di sopra di questi sistemi satellitari e vedere chi opera e chi spia e chi utilizza le armi satellitari addosso a queste persone perché in Italia non possiamo fare tutti come cazzo ci pare perché sennò diventano una dittatura totale e questi che stanno dentro questi laboratori quando li prendono fidatevi che non gli danno una bella medaglia al limite gli danno una bella corona e li mettono sotto all'arberi pizzuti non li mettono dentro al governo non li mettono dentro dentro al senato questi li mettono sotto gli alberi pizzuti ve lo dico io ve lo dico perché questi si credono di essere onipotenti stanno davanti alle tecnologie satellitari questi non hanno capito che come spiano a noi target individua spiano pure a loro perché le indagini se partono su di noi che noi siamo persone pericomode perché veniamo sottoposti a esperimenti militari a tortura lavaggi del cervello andiamo a denunciare questo anche loro non è che soltanto persone ben viste dallo stato italiano ben viste da determinate forze dell'ordine perché lo sanno che lavoro fanno che schifo del lavoro fanno ammazzano le persone con le armi satellitari ammazzano e creano incidenti stradali per esperimenti militari sulla popolazione ammazzano persone indivisa con queste ecologie satellitari io ho le testimonianze ho le testimonianze sui canali di youtube andatevele a vedere le testimonianze delle persone attaccate con queste armi con queste tecnologie andatevele a sentire il canale di youtube angeli custodi mk ultra italia il mio secondo canale emiliano babilonia con la fotografia che c'è l'occhio nero oppure potete andare a sentire le interviste sulla mia radio web emiliano babilonia sprighere andatevele a sentire le interviste le testimonianze così capirete di che cosa parlo se mi volete scrivere direttamente vittime del controllo neurale www.gmail.com se volete fare un'intervista testimonianza solo audio e anonima mi potete scrivere se volete vedere che cosa posto sui vari canali sui vari miei blog vittime del controllo neurale satellitare blogspot oppure satellitispia blogspot.com oppure ricercatori di fenomeni spiegabili nel mondo blogspot.com la mia radio web la mia prima radio web emiliano babilonia sprighere se mi volete seguire sui canali di facebook emiliano babilonia italia e su emiliano babilonia italia possiamo avere visto che è un canale pubblico un account pubblico dove tutti mi possono scrivere basta che il vostro account è attendibile mi iscrivete mi iscrivete tramite messenger e possiamo parlare eventualmente mi mandate un messaggio e mi dite vorrei parlare con lei perché sono un target individual e perché voglio fare l'intervista testimonianza voglio ricordare l'intervista testimonianza è solo audio anonima la registriamo dopo io la monto la preparo e la pubblico su internet voglio ricordare un'altra cosa non mi fate perdere tempo con l'intervista testimonianza che ci abbiamo avuto delle persone che hanno voluto fare l'intervista testimonianza a forza dopo fatta l'intervista testimonianza l'abbiamo pubblicata e l'hanno voluta far levare a forza io non posso perdere tempo giornate intere a preparare l'intervista riascoltare l'intervista rimontare l'intervista e poi pubblicarla per sentirmi dire adesso l'intervista la devi levare perché qualcuno potrebbe dire che riconosce la mia voce quindi io non voglio sapere di queste cose se avete le palle di effettuare l'intervista testimonianza per aiutare le altre vittime del controllo mentale fate l'intervista testimonianza se mi volete far perdere tempo non mi contattate proprio perché tanto sentire persone che ah la soluzione tutto gratis voglio fare qua immediatamente mi devono scollegare di qua di là non si può fare così le persone che collaborano con il gruppo avranno con il mio gruppo avranno delle soluzioni ma le soluzioni non possono essere fatte immediate perché noi non abbiamo i miliardi se poi voi siete milionari e venite noi e ci dite ecco do io i soldi per 50 avvocati penali do io i soldi per acquistare tutte le attrezzature do io i soldi per creare i laboratori allora lì è un altro punto noi ci mettiamo lì ci mettiamo a studiare come creare il laboratorio le attrezzature che devono essere comprate gli avvocati quello che devono fare le analisi i filmati le ricerche i test che noi le dobbiamo fare e che faremo e dopo porteremo praticamente tutti i medici legali i medici legali valuteranno insieme agli avvocati quello che noi stiamo portando in tribunale e poi porteremo tutto quanto in tribunale ma se non abbiamo i soldi non collaborano per comprare una telecamera termica non collaborano per comprare una cabbia ma che pretendono le vittime che io devo comprare una cabbia di Faraday da 2.500 euro e poi vengono vengono ah ma adesso voglio fare il test dentro la cabbia di Faraday no la cabbia di Faraday deve essere comprata da tutti con la collettività e tutti quanti poi potranno soffrire della cabbia di Faraday se io compro la telecamera termica e la telecamera termica costa 1.500 euro quanti siamo? 50 persone? 20 persone? 30 persone? ognuno mette 10 euro 20 euro 30 euro e tutti quanti insieme riusciamo a comprare la telecamera termica poi quando voi venite alle conferenze venite ai convegni o venite alle riunioni private che noi faremo o al seminario che noi faremo io prenderò la telecamera e la metterò a disposizione con le analisi e i test all'interno della sala per analizzare le vittime che verranno agli eventi non è che la telecamera me la prende e me la metto in tasca e poi io non la uso per aiutare le vittime del controllo mentale bisogna fare delle cose reciproche io do tanto per le vittime e le vittime devono dare un piccolo contributo molte volte per collaborare nell'acquisto di determinate attrezzature non è che vi sto dicendo che me dovete comprare un Harley Davidson non è che vi sto dicendo che me dovete comprare il Ferrari stiamo parlando di attrezzature tecniche e scientifiche che servono per fare le analisi e trovare delle prove per i target individuans per poter poi prendere queste analisi e ricerche fare dei video fare delle interviste a testimonianza fare delle analisi delle dirette mentre vengono fatti questi test ovviamente sempre tutelando la privacy della vittima e poi prendere tutto e pubblicare su internet pubblicare su tutti i canali possibili immaginabili per far capire le persone che quella donazione che voi avete fatto è servita per acquistare un determinato tipo di prodotto un determinato tipo di attrezzatura che viene e che sta per essere utilizzato o che verrà utilizzata per analizzare le vittime per controllare per analizzare le frequenze dentro a casa delle vittime per analizzare le frequenze sul corpo delle vittime per aiutare fargli capire come vengono attaccati con queste armi e con queste tecnologie quindi un saluto a tutti amici da ricercatore indipendente cavia umana sotto torture da parte dei servizi segreti militari di mafia militare dei terroristi militari dal 10 febbraio del 2001 dopo un anomalo fermo della gendarmeria nera di Roma che anche loro erano sottoposte ad esperimenti di manipolazione e controllo mentale perché non è possibile che ci hanno fermato così all'improvviso perché ci hanno visto per strada sono stati per me manipolati con il controllo della manipolazione mentale perché quello era un pretesto di attestare e collaudare qualche tecnologia di manipolazione e controllo delle frequenze cerebrali quindi anche i tutori della legge sono sottoposti ai stessi attacchi le stesse frequenze le stesse manipolazioni e i stessi sistemi di controllo e di espionaggio come vediamo noi target individual spiati solo che noi rileviamo le frequenze di disturbi di manipolazione perché rileviamo determinate frequenze che penetrano il nostro cervello e non tolleriamo le pressioni cerebrali le pressioni trascraniche non tolleriamo determinate frequenze di disturbo quindi un indomani i target individual potrebbero essere d'aiuto per la sicurezza nazionale per la sicurezza europea per la sicurezza mondiale ma siccome ci sono alcune vittime che purtroppo credono ancora l'asini che volano e non possono ovviamente presentarsi o fare da portavoce perché dicono una marea di stupidaggi durante la notte sono entrati e mi hanno messo centinaia di microchip sul corpo sono in zingari sotto casa e io dico ma come si fa ad andare a denunciare una cosa del genere quando questa persona è venuta centinaia di volte ai convegni ai conferenze abbiamo parlato tutti quanti e tutto il mondo sta parlando che usano le armi satellitari le armi energie dirette e queste ancora vanno a dire bagianate sono microchip invisibili nanochip non possono essere visti ma chi te l'ha detto ma come fa un nanochip a operare attraverso frequenze o radiofrequenza a modulazione di frequenza senza un trasmettitore o un ricevente o una portante che ti spara le frequenze nei centi nervosi centrali ma non avete visto come sono fatti i chip neurali sono grossi perché devono essere impiantati nel cervello e quindi si vedono perfettamente devono essere alimentati e si vede perfettamente la batteria che alimenta e si vedono perfettamente i famigerati elettrodi che vengono messi dentro al cervello perché devono emanare determinate frequenze che devono interagire con i centri nervosi o devono interagire con la corteccia cerebrale o con il nostro cervello voi portate le lastre e non si vede niente portate la risonanza magnetica e non si vede niente portate le tacche non si vede niente fate il body non si vede niente e ancora andate a dire in giro si vede che usano i nanochip e non si vedono no non ci avete capito niente è meglio che vi state zitti perché sennò siete disinformatori e create danni alle altre vittime che vogliono essere salvate e tutelate da esperti che capiscono come funzionano queste tecnologie perché usano armi ad energia diretta satellitare non usano microchip non sono alieni non sono fantasmi non sono i zingari sotto casa non sono le persone che vi stanno nel condominio che tutti quanti dite sempre le solite bagianate alle altre vittime e addirittura le vantate ho scoperto che sono loro ho scoperto ho scoperto state creando danni alle vittime fatevi di fatti vostri quando volete dare dei consigli o date consigli sbagliati perché rovinate le vittime del controllo mentale un saluto a tutti amici grazie a tutti